Bentrovati ragazzi, oggi parleremo della liberatoria. Cos'è la liberatoria? La liberatoria nient'altro è il permesso scritto del cliente che vi autorizza a utilizzare e a pubblicare la foto che lo ritrae. La liberatoria fino ad ora non è stata una cosa così importante in Italia, le leggi sono piuttosto blande, all'estero è un pochettino più complicato e chiunque per strada sembra quasi che cerca una scusa per farvi causa. Quindi in Inghilterra, in America sicuramente la gente è molto più conscia dei suoi diritti. Quindi per mia esperienza la migliore cosa è far firmare semplicemente un pezzettino di carta che vi esonerà da qualsiasi responsabilità. E questa è una regola che riguarda sia i clienti paganti che il cugino o l'amico o chi che sia. Non si sa mai, è molto facile, un secondo firmare liberatoria e voi siete tranquilli in futuro di poter fare quello che volete. Ovviamente si parla di ritratti, si parla di foto dove il soggetto viene ben ripreso ed è riconoscibile, in quel caso serve la liberatoria, soprattutto per strada, per chi ama la street photography. Per strada avete due possibilità, cioè il mio consiglio perlomeno è questo. L'ideale sarebbe avvicinare il cliente prima, il soggetto prima e dirgli magari sai sono un fotografo, il mio Instagram faccio foto per strada e magari gli fate vedere il vostro profilo e gli chiedete ti posso fare una foto? Quasi sempre ti dicono sempre di sì, non c'è nessun problema. Per di più se dite di voler condividere quello scatto con loro e tutti sono in cerca di un poco di popolarità, quindi sicuramente va benissimo così. Se invece cercate lo scatto naturale, quindi quello scatto spontaneo, magari tirate prima la foto e dopodiché avvicinate il soggetto. Come vi ripeto in Italia non siamo abituati a tutto questo, ma la gente comincia ad abituarsi anche a questo. Questo tipo di liberatoria vi è sonata da qualsiasi responsabilità. Tuttavia per una questione di correttezza, di rispetto reciproco con il cliente, se in futuro dopo aver fatto lo scatto avete bisogno di utilizzare quella specifica foto che ritrae quella specifica persona per una promozione, per una vita, per qualsiasi cosa, insomma a scopo di lucro, per me il consiglio migliore è quello di ricontattare il soggetto e spiegargli la situazione. Guarda, la tua foto è bellissima, la vorrei utilizzare per questo, questo e questo, ti dispiace, ho il tuo permesso. È sicuramente molto meglio, anche se questa liberatoria è firmata all'inizio, vi è sonata già da qualsiasi responsabilità, quindi non c'è nessun problema, però è sempre mantenere dei buoni rapporti con tutti. Se volete, se ne avete bisogno di una copia, questa liberatoria in inglese è quella che uso sempre io quando viaggio, quando mi occupo di, normalmente per lo street photography, anche per i clienti. Se vi interessa messaggiatemi, sono felice di condividere il pdf di questa, di questa liberatoria in modo tale che voi avete una traccia, ovviamente sarebbe da tradurre in italiano, però questo è poco male, una volta che avete una traccia è tutto molto facile. Spero che vi sia stato utile e alla prossima, ciao!